Per affrontare le urgenze immediate, che sono urgenze economiche, che si stanno verificando in ampi settori, credo che possa essere utile riscoprire un'idea che era stata enunciata da Papa Benedetto XVI all'epoca della grande crisi che aveva colpito soprattutto la Grecia, il debito sovrano. In quel momento Papa Benedetto aveva suggerito di utilizzare uno strumento, possiamo dire così, dei gemellaggi, una famiglia che si fa carico di un'altra famiglia, un paese di un altro paese, un collega di un collega. Certo, occorre la mediazione di qualche soggetto istituzionale, il comune, la regione, il governo, che faccia incontrare i bisogni emergenti che hanno colpito di più alcuni settori della popolazione e di altri, ma anche con il grande desiderio di responsabilità e di solidarietà che è il grande frutto che questa pandemia ci sta offrendo.